Io ho cominciato a lavorare a 18 anni e mezzo in Fiat a fare l'operaio e dopo poche settimane ero assunto a tempo indeterminato. I miei figli continuano a cambiare un lavoro dopo l'altro ogni 3, 4, 5 settimane. Quando riescono a lavorare un anno sembra che abbiano vinto al totocalcio. Cioè ma questa è la realtà. Oggi i giovani sono in una condizione di precarietà molto peggio della mia generazione. Però è cambiato anche il mondo del lavoro, Ferrero. Quindi non si dica che un tempo si lavorava peggio. Si lavora peggio oggi purtroppo. E questi giovani sono in una condizione di precarietà molto peggio.